La linea lo dai chiaramente in privato, rientriamo nuovamente in studio per conto nostro, lo dai in regia e bene, nel frattempo che Riccardo fornisce questo numero dove poterlo contattare io stavo vedendo appunto questo, l'agenzia del territorio del servizio pubblicità immobiliare si tratta di un mutuo, una richiesta di mutuo un mutuo concesso di 2 miliardi ci siamo? stiamo aspettando che Riccardo Schicchi si ricolleghi con noi perché c'era un problema di linea comunque contraddizioni ce ne sono tante diciamo che la cosa mi colpisce, c'è un mistero sicuramente che avvolge completamente ammanta proprio questa una vicenda ci siamo? dovremmo eserci perché siamo anche quasi in chiusura questo qui è del sindaco di Lerma che nega appunto che le spoglie di Moana siano lì come è stato dichiarato dal figlio Simone bene, ci torniamo perché c'è un mistero che ammanta un po' tutta la vicenda qui si parla, Riccardo ci sei? si, si si parla di un mutuo proprio concesso di 2 miliardi di lire appunto a Pozzi, Anna Rosa, Moana Rosa è nata il 27.4.61 a Genova e la data? da parte del credito fondiario industriale forse la data, porta la data del 26 giugno del 1995 a Genova registro particolare 81.17 effettivamente ti ripeto, sono i due documenti che mi hanno colpito molto di più a parte questo della dichiarazione del sindaco di Lerma che nega che le spoglie di Moana, le cene di Moana si trovino appunto nel cimitero appunto del paese in questione però ecco, questo mutuo del 26.6.95 sembra quasi stare in un film di Dario Argento effettivamente ma più che altro mi sembra stare in un film dei magnifici ladri cioè perché secondo me i mutui si aprono anche con le persone decedute per prendere dei soldi e come fai? chi è che va a prendere? questo sarebbe una cosa gravissima un notaio che è falsario allora? eh beh sì, questo è un falso e allora va bene, andiamo a individuare ma come mai? quando dico una cosa io, queste qui sono i documenti miei sono tutti frutti di falsari invece i documenti della famiglia sono tutti documenti inoppugnabili? ma non credo che siano della famiglia cioè la clinica di Lione sta lì no, e beh la clinica di Lione mica ha dato Moana Pozzi Anna Moana Rosa Pozzi morta ha detto una certa... comunque io vorrei abbandonare un attimo questo clima di un po' di battibecco magari forse creare un clima un po' più collaborativo infatti perché io poi tra l'altro sono sempre dalla parte di quella che potrebbe essere la verità della tutela insomma dei più deboli faccio mai il mio giornalismo a servizio del potere ma sempre da parte della gente in questo caso la parte debole dovrebbe essere Moana naturalmente almeno in base ufficialmente risulterebbe morta deceduta morta forse è una parola un po' sbagliata però in base a questi documenti forse un atteggiamento più collaborativo sia da parte di Brunetto sia da parte di Riccardo questi sono i documenti e lui dice che non sono veri io posso capire forse uno sbaglio effettivamente di data per quanto riguarda la denuncia di sbarrimento ma no no quale sbaglio è che hanno fatto le pentole senza il coperchio un attimo il cortesia Spionetto faccio un attimo e poi invece il 26 giugno 1995 effettivamente si parla di quasi un anno dopo sono nove mesi dopo qui questo se è un falso sicuramente sono delle persone penalmente responsabili Sì, anche se comunque un minimo di attenzione da parte di un organo che eroga mutui davanti a un nome così popolare, d'altronde dopo la morte se ne è parlato talmente tanto che credo che sia stato veramente impossibile che nessuno si sia accorto che non fosse Moana chi ha richiesto il mutuo. Anche questo mi sembra molto strano. Io giornalisticamente sono un po' addolorato, un po' dispiaciuto per il fatto di dover chiudere poi la puntata effettivamente con un mistero forse ancora più fitto in base a quello che mi ero, perché io bene o male mi ero reso conto di una storia un po' ammantata da un mistero piuttosto fitto, ma adesso con queste prove documentali che ti ripeto non avevo mai visto mi trovo in una posizione ancora più di dubbio Enzo, sicuramente, forse la ricerca della verità forse è la cosa più importante da parte di tutti. Penso di sì. Penso soprattutto per rispetto per smascherare tutti i furbacchioni che ci stanno praticamente giocando intorno, giocare sulla morte di una persona tra le altre cose così belle e importante come Moana è un fatto grave e col tempo vengono fuori tutte le verità. Anche Riccardo, io adesso tu sei un esperto del settore, però io dal di fuori penso che un personaggio come Moana sia un po' una mosca bianca appunto nel settore dell'erotismo, io forse vedo che a fianco la nostra Loretana Bontempi che è un po' giudico da un punto di vista forse culturale, ecco, soprattutto di spessore. Io spiango Moana e quindi sono molto triste sentire tutto questo, se un giorno ho Fantauzzi avrà ragione lo ringrazierò, però per il momento sono molto scettico. Quanto meno ci devi ragionare sopra, no? Sì, sì, ma magari io parlerò anche con Antonio, gli dirò scusa, ma come hai accettato una richiesta di una persona che stava male e che non avresti dovuto comunque accettare, perché se era lucida come l'ho sentita io, può darsi in un momento di sconforto abbia chiesto di farsi togliere la vita, ma non per questo doveva obbedire, può anche darsi che ha obbedito anche all'idea di scappare via, purtroppo non è così, ma potrebbe pure essere. Permetti che almeno ci sono delle grosse lacune? La tua onestà culturale e intellettuale non può non esimerti da ragionare su questa cosa. Le lacune sono causate da una famiglia moralista che si è sempre nascosta, che con questo meccanismo e questo gioco ha creato i misteri. Ma se tu sai meglio di me, per esempio, che al Comune di Roma hanno fatto delle corruzioni per far diventare Simone Conforti, farlo diventare Simone Pozzi, qualcosa comincia già da lì, no? Diciamo che non era una famiglia del tutto tranquilla. Moana ne ha sofferto molto, su questo bisogna stargli vicino, speriamo che si chiarisca tutto, però rimane Moana viva realmente, non nelle ipotesi, ma per quello che è riuscita a mantenere fino alla fine una coerenza, una serenità, un modello di donna straordinaria, che dovrebbe vivere anche nelle altre persone che prendono questa vita in un altro modo, in una maniera certamente ipocrita, che è quello che non era assolutamente Moana. Bene Riccardo, io ti ringrazio tantissimo per questo intervento. Io ringrazio pure Fantauzzi, che comunque ce la sta mettendo tutta, spero che abbia ragione. Io spero che con questa puntata in qualche modo abbiamo dato un piccolo aiuto, abbiamo magari introdotto un'altra piccola goccia appunto in un oceano, e che possa arrivare a scoprire la verità e poi soprattutto a far sì che Moana possa riposare in pace. Il ricordo di Moana sia limpido e estraneo a qualsiasi tipo di mistero di titubanza. Insomma, ecco, questo è forse la cosa più importante, il messaggio che vorrei lanciare a te, a noi tutti e ai nostri dati ascoltatori. Bene, grazie mille di nuovo Riccardo per l'intervento. Grazie Riccardo Schicchi, torniamo ancora in studio, siamo veramente negli ultimi minuti, perciò facciamo adesso una piccola conclusione. Io volevo sentire Loredana, che ovviamente è stato molto ovviamente...